Baila la salsa! Ma, esta non è una salsa, esta è la pasta fatta in cassa! Cuoccarina, 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 cuoccarina. Una cosa da imparare, se in cucina vuoi regnare, è la pasta di farina con le uova di gallina. Di farina un bel bucchietto, con al centro un buconetto, che non è una cosa nuova, devi romperci le uova! Cuoccarina, 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 cuoccarina. Tante uova quanto basta per amalgamare la pasta, poco sale la forchetta, fai girare in fretta in fretta. Si diventa troppo dura, mezzo guscia e la misura, da quanto è quanto ti basta, per riaver marti da pasta. Cuoccarina, 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 cuoccarina. Con le mani si lavora per almeno un quarto d'ora, ed infine la si estende per tagliarla, e forma prende. Di raviola e tagliatella, di lasagna o pappardella, da allargare ben distante perché buona se croccate. Cuoccarina, 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 cuoccarina. Grazie a tutti.